Il legale di Giovanni Vantaggiato, autore reo confesso dell'attentato alla scuola Morvillo Falcone a Brindisi, chiede che venga rivisto il capo di imputazione a carico del suo assistito. Una richiesta depositata con il ricorso al Tribunale dell'esame di Lecce. Il difensore dell'imprenditore di Copertino chiede in particolare che venga esclusa l'aggravante della finalità terroristica contestata dalla procura distrettuale antimafia di Lecce insieme al reato di strage e di possesso ed esplosione di congegno micidiale. Nei prossimi giorni il criminologo Francesco Bruno dovrebbe elaborare il profilo psichiatrico di Vantaggiato attraverso il test di valutazione al quale l'imprenditore ha risposto alcuni giorni fa dalla cella dell'ala femminile del carcere di Lecce nella quale era inchiuso in isolamento nel 7 giugno scorso. Intanto il preside dell'istituto Morvillo Falcone, Angelo Rampino, si è recato nel pomeriggio in procura a Brindisi per essere ascoltato dai magistrati che indagano sull'attentato del 19 maggio scorso. Rampino è stato sentito come persona informata sui fatti dal PM Milton Enozza, magistrato applicato alla DDA di Lecce insieme al procuratore Cataldo Motta che coordina l'inchiesta. Rampino è stato sospeso dall'incarico dopo che l'ufficio scolastico provinciale ha deciso di compiere su di lui accertamenti di tipo amministrativo. Nei giorni successivi all'attentato del 19 maggio il preside si era allontanato da Brindisi rivelando poi ai giornalisti l'esistenza di un altro video oltre a quello ricavato dalle telecamere di un chiosco di fronte alla scuola. Subito dopo l'arresto divantaggiato Rampino era stato indicato anche come possibile bersaglio dell'attentato per presunti scherzi per motivi privati con l'imprenditore. Voci successivamente smentite. Grazie.